Buonasera, ben ritrovati con Spazio Professioni. Andiamo a vedere insieme le notizie di questa settimana. Il 17 giugno la Commissione europea ha adottato il piano d'azione per una tassazione societaria più equa. Il piano è finalizzato alla lotta all'illusione fiscale, alla sostenibilità del gettito e al rafforzamento del mercato unico per le imprese. Sulla base del pacchetto sulla trasparenza fiscale il piano d'azione si compone di cinque elementi principali. Il rilancio della base imponibile e consolidata comune per l'imposta sulle società, la garanzia di una tassazione equa nel luogo in cui gli utili sono creati, insieme a maggiore severità riguardo i regimi fiscali preferenziali, ma senza necessariamente armonizzare le aliquote d'imposta. E infine la creazione di un migliore contesto per le imprese, il rafforzamento della trasparenza, il miglioramento del coordinamento tra Paesi membri. Per risolvere il problema della scarsa accessibilità al credito da parte dell'azienda, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Il decreto contiene misure che affrontano molte delle cause che determinano la stretta creditizia. Tutte le misure muovono da un principio comune. Un'azienda con problemi rischia di ritrascinare con sé altre, continuando a contrarre obbligazioni che non può soddisfare, riporta una nota del Consiglio dei Ministri. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendiali consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente impreditoriale, sia sul piano finanziario o di risanare l'azienda con benefici sul piano occupazionale e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo. Varie le misure previste dal decreto, tra le quali segnaliamo la possibilità dell'accesso al credito nel corso di una crisi aziendale, anche nel caso di concordato in bianco, l'apertura alla concorrenza del concordato preventivo e la possibilità di chiudere l'accordo per la ristrutturazione dei debiti, anche con il 75% dei creditori, purché questi rappresentino il 50% del debito. Si accorciano i tempi di pagamento delle imprese e quanto emerge dall'analisi trimestrale condotta da Cervet, che nel primo trimestre dell'anno ha registrato un sostanziale miglioramento sia nelle statistiche sui protesti, sia nei tempi di pagamento delle imprese. Un dato che conferma il trend positivo già osservato alla fine del 2014, afferma una nota del Cervet, sottolineando che il fenomeno rientra nel processo di ristrutturazione dell'economia italiana, che vede da un lato l'uscita dal mercato delle società più fragili e dall'altro il consolidamento delle condizioni economico-finanziarie delle imprese che sono sopravvissute. Sono oltre 178 mila i nuovi contratti di lavoro attivati a maggio al netto delle cessazioni. Nuovo aggiornamento del Ministero del Lavoro alle dinamiche dei contratti di lavoro, in base alle prime evidenze ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie. Secondo la nota diffusa lo scorso 24 giugno, a maggio sono stati attivati 780.351 nuovi contratti di lavoro. Di questi, 153.633 sono contratti a tempo indeterminato, 18.778 sono contratti a tempo determinato, 19.694 sono contratti di apprendistato, 33.280 sono collaborazioni e 54.966 sono classificate tra altre forme di lavoro. Il dato complessivo dell'attivazione di nuovi contratti segna un incremento del 5% rispetto a maggio 2014. In aumento anche il numero delle trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti ai tempi indeterminato, che a maggio sono salite a quota 29.934. Su fronte delle cessazioni invece il Ministero del Lavoro ha rilevato che a maggio 2015 sono state 602.175 in aumento del 5% rispetto a maggio dello scorso anno. Sono stati resi noti i dati della seconda indagine sui rischi nuovi ed emergenti condotta dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. L'Agenzia ha intervistato i referenti per la salute e sicurezza nelle imprese, in particolare sui rischi psicosociali, ossia lo stress legato al lavoro, la violenza e le molestie. Nel 2014 è stato intervistato un campione proveniente da 36 Paesi. I risultati dell'Esner 2, questo è il nome dell'indagine, rispecchiano la continua crescita del settore dei servizi. Tra i fattori di rischio identificati più di frequente si evidenzia la gestione di clienti, studenti o pazienti difficili, seguita da posizioni stancanti o dolorose e movimenti ripetitivi della mano o del braccio. Esner 2 indica che il 76% dell'impresa nell'Unione Europea a 28 effettua regolarmente valutazioni dei rischi. Quasi tre quarti dell'impresa, oggetto dell'indagine dell'Unione Europea a 28 membri appunto, ossia il 73%, riferiscono inoltre di offrire una formazione ai propri team leader e responsabili di linea su come gestire la sicurezza sul lavoro. Firmata nelle scorse settimane un accordo di reciproca collaborazione tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il CERN di Ginevra. L'intesa è volta a favorire la formazione degli ingegneri italiani nel centro di ricerca di Ginevra, in particolare per quanto riguarda l'information technology, l'elettricità, l'elettromagnetismo, la meccanica, l'ingegneria civile e la criogenia. La collaborazione caratterizzata da una visione innovativa e internazionale si inquadra perfettamente, sottolinea il Presidente del Consiglio Nazionale di Ingegneri Armando Zambrano, nel lavoro che l'UCNI sta realizzando in tema di formazione, uno degli aspetti principali su cui il Consiglio sta concentrando le proprie attività. Secondo i dati di alcuni medici, l'uso dello stampatello potrebbe permettere di ridurre un gran numero di errori in campo sanitario. Vediamo il servizio. Scrivere in stampatello potrebbe anche salvare la vita. Sicuramente permetterebbe di evitare l'84% degli errori commessi nella prescrizione della terapia ai pazienti e diminuire il numero di errori sanitari, pari a 320 mila ogni anno, su un totale di 8 milioni di ricoveri. Ben 8 errori su 10 nella prescrizione della cura derivano infatti da sbagli di trascrizione che si potrebbero prevenire compilando la scheda clinica con una scrittura più chiara. Questi dati fanno sì che un paziente su due tema per la propria salute, dopo aver varcato l'ingresso dell'ospedale. Secondo Alessandro Boccanelli, copresidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatica, il collega o l'infermiere non comprende la scrittura del medico che ha indicato la cura e questa viene modificata. Basterebbe quindi scrivere sempre in stampatello sulle cartelle cliniche per prevenire moltissimi guai. Gli errori di prescrizione sono responsabili di un caso su due degli incidenti durante i trattamenti, aggiunge Boccanelli, mentre gli errori di somministrazione sono il 26% e quelli di distribuzione il 14%. E con questo è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.